Salve e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Stadionews24 Calciomercato, tutte le notizie sul mercato in entrate e in uscita del Palermo, mercato che volge al termine ultimi giorni per il Palermo per cercare soprattutto di sfoltire una rosa che al momento è impegnata soltanto in una competizione, il massimo campionato alla Serie A, Palermo che sta cercando anche di risolvere i problemi legati ai rinnovi del contratto, un contratto che con ogni probabilità anzi con la quasi certezza ormai non verrà rinnovato, è quello di Ezequiel Muñoz messo praticamente alla porta anche dal presidente Zamparini che ha dichiarato di non sentirlo più come un giocatore del Palermo. Sul centrale argentino ci sono delle novità, si tratta infatti dell'ultima settimana a disposizione per cercare di trasferirlo altrove per cercare il Palermo di ottenere almeno un minimo guadagno, un minimo conguaglio dalla sua cessione. Sul giocatore c'è il Milan, il suo agente Fernando Ortizzi in questi giorni è a Milano, si può cercare una trattativa per cedere il giocatore al club rosso-nero, club che potrebbe dare un conguaglio minimo al Palermo per evitare di perderlo a parametro zero. In estate il giocatore si trasferirebbe volentieri a Milano. Restano aperte comunque per Muñoz le piste che portano in Russia. Ricordiamo che in Russia il mercato chiude un mese dopo la chiusura europea, la chiusura normale che è quella del 2 febbraio. Dunque al momento le squadre russe interessate a Muñoz non hanno particolare fretta nel chiudere, nell'intavolare una trattativa col Palermo per la cessione del giocatore. Potrebbero anche aspettare un altro mese, non necessariamente l'estate dunque per prenderlo a parametro zero, ma al momento alla finestra c'è il Milan che nei prossimi giorni potrebbe cercare di chiudere col Palermo per portare a casa Muñoz ed evitare dunque al Palermo la beffa di perdere il giocatore gratis in estate a campionato concluso. In caso il Palermo dovesse cedere Muñoz adesso a gennaio il nome che suona per primo come possibile sostituto di Muñoz è quello del brasiliano Bruno Uvini, difensore di proprietà del Napoli. Ha giocato in prestito negli ultimi nove mesi in Brasile al San Paolo, in Italia conta soltanto una presenza in massima serie con la maglia del Napoli. Ha giocato anche al Siena, o almeno è stato fatto parte anche della Rosa del Siena pur senza giocare, Siena che era allenato all'epoca da Beppe Iachini. Passando a un altro difensore, un'altra possibile uscita, quella di Suahir Feddall, il giocatore è cercato dal Genoa, ci sarebbe un accordo di massima tra il difensore e il club genovese, però il Palermo al momento tentenna, non vuole lasciare andare via un altro difensore dopo che è partito Bambà e con Muñoz ormai praticamente fuori dalla Rosa. Il Palermo vuole tenere Feddall, Feddall che è in prestito dal Parma, il Parma cederebbe volentieri il giocatore per fare cassa, però il Palermo al momento ha il contratto in mano e fino a giugno può decidere le sorti del giocatore. Il Parma vorrebbe, sarebbe disposto eventualmente con un conguaglio a cedere il giocatore al Palermo già a Gennaio, il Palermo ha un riscatto fissato per giugno, dunque non ha l'impellenza di riscattare il giocatore adesso in inverno, preferirebbe farlo in estate a campionato concluso per ponderare meglio la situazione. Inoltre, ripetiamo, il Palermo vuole tenere il giocatore per evitare ulteriori buchi a livello numerico in difesa. Un buco che, tra virgolette, verrà creato dalla cessione di Milan Milanovic, l'accordo col Trapani c'è, la firma non è ancora arrivata perché nella giornata di ieri i dirigenti del Trapani sono stati impegnati, c'è stata la cessione di Mancosu dal Trapani al Bologna, dunque è slittata l'ufficialità del passaggio in prestito di Milan Milanovic dal Palermo al Trapani, un passaggio che comunque si concretizzerà nelle prossime ore. Milanovic sarà un giocatore del Trapani, passerà a titolo temporaneo a Club Granata, ha rifiutato la destinazione russa per restare in Italia, ha preferito giocare in Serie B, restare in Italia, più specificamente in Sicilia, per continuare la sua avventura e cercare dunque di imporsi in Italia, piuttosto che ritornare in Russia, da dove è venuto. Ricordiamo che Milanovic cresce nelle giovanili dello Spartak Mosca, dunque sarebbe stato un ritorno per lui, ritorno che è stato rifiutato. Passiamo ora ai commenti dei nostri spettatori da casa, commenti lasciati sui social network, su Facebook e Twitter, ricordiamo le nostre pagine Stadionews24. Il primo di Daniela si parla di un dopo maresca perché il Palermo non fa un pensierino su Cassano, Cassano che ricordiamo si è svincolato dal Parma, Cassano che però al momento non è assolutamente nei piani del Palermo anche per questioni economiche. Vincenzo speriamo di non perdisci, auguri a Munoz per il suo futuro, questo riferito ovviamente all'ormai certo addio di Munoz che sia giugno che sia gennaio, anche se ancora è tutto da vedere un'eventuale cessione in questa sessione di mercato. E Peppe invece sullo sfogo di Suleman Bamba che ieri ha avuto parole non proprio dolci nei confronti del Palermo, se lo spazio l'hanno avuto Fedda, Landelkovic e Vitiello avrebbe dovuto averlo anche lui. In effetti Bamba ha giocato soltanto una partita contro il Napoli, non andò benissimo, dopo quella partita Iachini lo ha praticamente escluso dalle rotazioni della squadra. Passiamo nuovamente alle notizie di mercato, sempre mercato in uscita, tra i difensori con le valigie in mano c'è Eros Pisano, il Palermo vuole attendere perché non ha un altro terzino destro come sostituto di Morganella oltre a Pisano. Dunque si aspetta prima di intavolare una trattativa per la cessione, sul giocatore c'è il Verona del direttore sportivo Sean Soiano che lo ha avuto a Varese e lo ha portato a Palermo. Possibile scambio con Sorensen o con Sala, altri due giocatori che possono prendere il posto di Pisano sull'out di destra. Possibile uscita anche a centrocampo con della Rocca, il giocatore non ha trovato tantissimo spazio anche se è rientrato da poco da un infortunio, Iachini lo vuole ancora in squadra, la società non ha dato disposizione di cederlo al momento, però il giocatore vorrebbe maggiore spazio, c'è stato qualche timido sondaggio da parte di squadre di Serie A ma al momento nulla di concreto sul giocatore. Passiamo infine alle notizie dalla Serie A, come è già detto ufficiale, la rescissione del contratto di Cassano col Parma, dunque Cassano torna a essere un giocatore svincolato. Su Cassano si è fiondato il Bari, squadra della sua città, squadra che milita attualmente in Serie B. Restando in Serie B il Catani ha praticamente concluso l'acquisto di Gillette, portiere dal Torino, Torino che dunque adesso cerca un altro portiere da fare da secondo a Padelli, promosso nuovamente a portiere titolare. Con queste notizie dal mercato italiano e della Serie A e col mercato del Palermo è tutto, l'appuntamento è sempre qui per la giornata di domani con Stadionews24 Calcio Mercato.